E' possibile incontrare e conoscere i libri prima ancora di saper leggere? Molti adulti sono convinti di no, ma i pediatri spiegano ormai da molti anni come persino nel corso dei primi mesi di vita i libri e l'ascolto delle letture possano essere uno strumento fondamentale per la crescita e lo sviluppo del cervello di un bambino. Nati per leggere è un progetto di promozione della lettura a voce alta in età precoce, cioè parte dai bambini quando ancora sono nella pancia della mamma, quindi lavora sui genitori per arrivare poi ai piccoli. L'Associazione Culturale Pediatri, l'Associazione Italiana Biblioteche ed il Centro per la Salute del Bambino in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura hanno inaugurato il primo punto lettura Nati per leggere, dedicato all'infanzia per diffondere la lettura ad alta voce. Al terzo piano del PAN di Napoli, in via dei Mille, ci sarà uno spazio a disposizione delle famiglie e dei più piccoli per sviluppare il senso della fantasia e della percezione attraverso la lettura ai laboratori. Lo spazio Nati per leggere diventa così per la città un punto fondamentale per la crescita dei bambini e dei loro genitori, in un'ottica di attività territoriali che dal PAN si dirameranno nelle altre municipalità. Un luogo di accoglienza dei bambini, di lettura, di ascolto, di comprensione, di istruzione che poi si estenderà a raggira su tutta la città, anche se già in questo luogo ovviamente vengono accolti i bambini di tutta Napoli. Gli spazi riservati all'iniziativa Nati per leggere anticipano il rinnovo del progetto PAN Kids 2012-2013, che prevede da questo autunno alla prossima primavera una serie di laboratori artistici e creativi riservati all'infanzia. Uno spazio che sarà il luogo da dove partiranno anche altri spazi nelle biblioteche municipali, un luogo simbolo perché il PAN come luogo dei linguaggi del contemporaneo sempre più si dedica anche all'infanzia e all'adolescenza, a un progetto di cultura per il futuro, un luogo dove la creatività ha sede e quindi è giusto che si occupi anche di infanzia, come succede nelle altre grandi città europee. Il punto di lettura sarà aperto il martedì, il mercoledì e il giovedì, la mattina e il pomeriggio, la mattina dalle 10.30 alle 13.30, il pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30 con attività di lettura a voce alta. I genitori saranno liberi di venire qui con i bambini, la mattina abbiamo un'attenzione particolare per le mamme e i piccolini da 0 a 3 anni e nel pomeriggio i bambini, diciamo da 3 a 6 anni, ma ovviamente se arrivano bambini anche più grandi li accogliamo ben volentieri. Grazie. Grazie.